Eccoci ad imbarcarci, il nostro valore è il primo e il secondo, ci siamo, ci stiamo imbarcando, ciao! Eccoci a bordo del creek di Alkana, quartiere di Abu Dhabi, zona gate, sopra Khalifa City, c'è Alkana, un bel quadro. Un bel quartiere lussuoso, questa è tutta un'area con hotel, ville, cinema, acquario, centri commerciali, in fondo a 7 km adesso vedremo la grande moschea, ma qui ci sono i più belli di tutti. Dite-mi, ma dove lì trovata? Dite-mi dove lì trovata?